Benvenuti. Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan, alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! Nel podcast precedente abbiamo proposto una chiave di lettura che spiegasse, attraverso concetti derivati dalle scienze evoluzioniste, perché lo slogan, anzi il meme, sono più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne, si sia diffusa a macchia d'olio nella cultura generale, radicandosi come un dogma indiscutibile con tutti i suoi effetti correlati e distruttivi. Nel farlo abbiamo definito quel meme femminista parzialmente vero e tuttavia anche ingannevole. Vedremo adesso il motivo per cui lo classifichiamo così e lo riteniamo quindi uno di quei memi che, agganciandosi a meccanismi mentali profondi evoluti nel corso dei millenni nel cervello umano, non solo non aiutano l'adattamento di individui e società, ma anzi lo ostacolano. La violenza, per come intesa dal meme sono più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne, rientra come abbiamo detto in una prospettiva dove si vuol far credere a chi lo ascolta che esista una volontà collettiva maschile di opprimere il genere femminile, appunto attraverso l'esercizio della violenza, di cui l'omicidio è parte più estrema, per affermare un predominio solitamente chiamato regime patriarcale. Il sottotesto del meme, confermato dalla propaganda ideologica che usualmente lo accompagna, è che quella violenza, oltre che essere frutto di un accordo tra tutti gli uomini per mantenere il potere a danno delle donne, viene tramandata tramite apprendimento fin dalla nascita. Gli uomini sono violenti perché da bambini i genitori comprano loro il pistola e giocattolo o sorridono e approvano quando giocano a rincorrersi e a fare la lotta, di contro approvando le bambine solo se stanno al loro posto e fanno giochi tranquilli e composti. Dietro alla violenza maschile in questa visione c'è dunque la ragione ambientale e un processo di apprendimento che attraversa le generazioni e che tramite gli stereotipi rafforza l'eterno regime del patriarcato, contemporaneamente indebolendo e rendendo innocue le donne. In altre parole, alla base del meme c'è la convinzione che la violenza non abbia nulla a che vedere con la natura umana, ma sia una sorta di patologia la cui fonte è in elementi esterni alla natura umana stessa. Tale ipotesi è diventata il dogma centrale di una fede laica, ripetutamente professato in pubbliche dichiarazioni come una preghiera quotidiana accompagnata sempre dal P.O. auspicio di poterla sradicare. D'altra parte, se una pratica è frutto dell'apprendimento, basta smettere di insegnarla o insegnare il suo opposto perché essa sparisca, no? Le teorie della violenza basate puramente sull'azione dell'ambiente e dell'apprendimento in realtà sono meri articoli di fede perché implicano due dottrine tanto care alle scienze sociali, specie quelle di origine marxista, quella della tabula rasa e quella del buon selvaggio. La dottrina della tabula rasa sostiene che quando nasciamo non abbiamo nulla di già preinstallato nel cervello, siamo appunto una tavola vuota su cui soltanto l'ambiente esterno, l'esperienza e l'apprendimento ammucchiano via via gli elementi che determineranno le nostre emozioni, comportamenti e istinti. La dottrina del buon selvaggio dal canto suo sostiene sostanzialmente che noi esseri umani siamo per natura di indole buona e mansueta e sono l'ambiente e la cultura a rovinarci da quando nasciamo in poi. È in base a queste teorie, da tempo ormai totalmente smentite dalle scienze evoluzionistiche, che si afferma o si allude, come fa il nostro meme, che la violenza non appartiene al repertorio di strategie naturali degli esseri umani ma è un comportamento che si acquisisce, che si apprende e di solito questa affermazione si accompagna ad ampie dichiarazioni morali e pubblici proclami che attestano che chi sta parlando è contrario alla violenza, ci mancherebbe. Le cose però non tornano. Quanto a virilità e al sessismo, ad esempio, varie società occidentali hanno una tradizione di macismo o spacconerie maschile, oppure il Giappone che ha ruoli di genere particolarmente rigidi, eppure in questi paesi si commettono infinitamente meno omicidi e violenze contro le donne in proporzione che negli Stati Uniti o nei paesi scandinavi, dove l'influenza del femminismo è più forte. Di fatto, coloro che rilevano come gli uomini commettano più atti di violenza delle donne e ne attribuiscono la causa alla cultura della virilità, si mettono dei paraocchi intellettuali che impediscono loro di riscontrare i dati evidenti della natura umana. Nonostante ciò, le dottrine della tabula rasa e del buon selvaggio godono di grande sostegno nelle scienze sociali, e questo accade sia per la loro attrattiva morale, cioè per la possibilità che danno a chi parla di dichiararsi e di sentirsi buono, sia perché rendono possibile e accettabile l'attività coercitiva di una forma di polizia ideologico-morale. Non a caso, un'asserzione come «la violenza è connaturata all'essere umano senza distinzione di genere, pur essendo scientificamente provata», suscita di solito condanne pubbliche, indignazione a reti unificate, interrogazioni parlamentari e tutto il baccano tipico di coloro che vedono messo in discussione quel loro sacro meme culturale e che vengono privati dalla verità naturale della possibilità di usarlo come una clava moralistica o uno strumento di potere». Eppure è così. Già la storia da sola, senza scomodare le scienze, dimostra come un gran numero di persone sane e razionali possano, a prescindere dal genere, spingersi a fare violenza ad altri e a distruggerne i beni. Questo accade perché, per quanto tragico sia, tanto per gli uomini quanto per le donne, a volte fare del male agli altri è utile agli interessi dell'individuo o di un gruppo di individui. I conflitti di interesse sono connaturati alla condizione umana e uccidere o opprimere con violenza l'avversario è spesso la tecnica di risoluzione definitiva di un conflitto. Così era per i nostri antenati, cacciatori, raccoglitori del Pleistocene. E dato che oggi, mentre le civiltà umane si sono sviluppate a velocità da capogiro, i geni che abbiamo sono gli stessi dei nostri antenati, così è anche per noi. Detto questo, però, le scienze registrano un fatto indiscutibile. Le strategie per la violenza, di cui il cervello è dotato, sono contingenti, connessa a un complicato circuito che computa quando e dove vadano dispiegate. Gli animali mettono in atto la loro aggressività molto selettivamente e gli esseri umani, il cui sistema limbico è unito a lobi frontali smisurati, calcolano ovviamente ancora di più. Per questo, di fatto, la maggior parte di noi oggi vive la propria vita adulta senza mai premere il suo interruttore della violenza. Detto in altri termini, la violenza scatta soltanto in determinate condizioni. La più elementare e ovvia delle quali è l'autodifesa, ad esempio, ma non è l'unica. Un'altra condizione è quella di sapere di essere in grado di poterla attuare con efficacia. Ogni animale, umani inclusi, ha radicata nel DNA la strategia del combatti o scappa, che è connessa al sistema nervoso autonomo. Il lupo beta, che vuole insidiare il ruolo del lupo alfa, va all'attacco solo se si sente abbastanza forte per vincere. Di contro, un agnello, di fronte a un lupo, opterà per la fuga. Essendo consapevole di essere disarmato a confronto del predatore. Il bagaglio genetico, che ci consente di essere violenti a date condizioni, è dunque parte della natura umana, a prescindere dai sessi. È così nel mondo animale, e provatevi a sottrarre i piccoli a una leonessa, per dirne una, ed è così anche tra gli umani. E qui già emerge la parzialità del meme femminista da cui siamo partiti, che lascia intendere che soltanto gli uomini siano violenti, in particolare verso le donne, che quando cedono a istinti violenti lo fanno solo per difendersi. Ovviamente non è così. Anche le donne, come gli uomini, esercitano la violenza quando le circostanze sono tali da renderla efficace. A dimostrarlo sta il fatto, per esempio, che la maggior parte delle violenze verso anziani o bambini è attuata da donne, prede indifesi i primi, predatrice più forte di loro la seconda. Idem per i casi, non maggioritari, ma comunque di numero non trascurabile, in cui le donne sono violente verso gli uomini. In parte capita per autodifesa, senza dubbio, ma sono moltissime le situazioni in cui si tratta di veri e propri atti offensivi. Gli atti persecutori, detto anche stalking, che è un reato puramente offensivo, è tra i crimini più spesso commessi dalle donne contro gli uomini, ad esempio. E sono frequentissime le situazioni in cui le donne attaccano o uccidono gli uomini con modalità dove non è richiesta la forza, per esempio l'avvelenamento, o dove l'uomo è inerme mentre dorme o attaccandolo alle spalle. Tutto questo perché la violenza è connaturata a tutti gli esseri umani e, come detto, scatta solo in circostanze in cui può essere efficace. Secondo le ricerche, la mente di tutti continua a essere ossessionata dalla violenza per tutta la vita. È stato rilevato che oltre l'80% delle donne e il 90% degli uomini fantasticano di uccidere persone a loro sgradite e questo può sorprendere solo i più ingenui oppure chi si schiera ideologicamente per la tabula rasa e il buon selvaggio. Detto ciò, andando al cuore del meme femminista ad cui siamo partiti e svelando l'inganno che contiene, la verità biologica è che la stragrande maggioranza degli uomini non è violenta. Rimane vero che la maggior parte delle persone violente è composta da uomini, ma per correttezza va anche detto che la maggior parte delle persone che ci protegge da quella minoranza ultraviolenta, magari sacrificando la propria vita, è composta da uomini, cosa che curiosamente nessuno mai sottolinea. Dunque, è vero, gli uomini sono più aggressivi e anche più inclini a correre rischi mortali delle donne. Come si è visto, sono più propensi a fantasticare di ammazzare qualcuno e ad ammazzare davvero qualcuno. Per di più sono anche quelli che si ammazzano in maggior numero. Nessuno dal lato delle scienze mette in dubbio questa realtà, peraltro confermata dalle statistiche. In tutto il mondo, oltre il 90% degli omicidi è commesso da uomini. Ciò che però tutti omettono di dire, a partire dal nostro meme di riferimento, è che anche la maggior parte delle vittime della violenza maschile è costituita da uomini, circa il 70%. In sostanza, il nostro meme ingannevole gioca sui ruoli di autore e vittima degli omicidi e delle violenze. Mette l'accento sulle vittime femminili per puntare il dito sugli autori di sesso maschile, se non che le maggiori vittime della violenza maschile sono, da sempre, i maschi stessi. Ripetiamolo, a essere uccisi o vittime di violenza da parte degli uomini e pure delle donne, seppur in minoranza, sono in gran parte gli uomini stessi. E se serve una prova scientifica a dimostrare che si tratta di una questione tutta interna alla sfera maschile che coinvolge quella femminile solo minoritariamente, è utile notare come le cifre relative agli esseri umani corrispondano perfettamente a quelli degli scimpanzè. Uno studio sugli scimpanzicidi ha scoperto che il 92% degli assassini era costituito da maschi e anche il 73% delle vittime. Alla luce di ciò, la versione pienamente veritiera e non ingannevole del meme femminista dovrebbe suonare così. Da almeno 2,5 milioni di anni sono di più le persone uccise da uomini che le persone uccise da donne. Diventando pienamente veritiero, però, il meme mostrerebbe di essere ovvio, quindi per nulla sorprendente, e perderebbe gran parte della sua potenza e della sua funzione ideologica, diventando quasi del tutto inservibile alla propaganda femminista. Resterebbe soltanto come magra consolazione il fatto di additare il sesso maschile come il più violento tra i due esistenti in natura e il fatto di attribuire tale tendenza agli effetti dell'apprendimento e della cultura, con tutta la necessità collegata di punire e rieducare gli uomini. Ma c'entrano davvero cultura e apprendimento? Abbiamo già visto di no, ma occorre cercarne una conferma scientifica. Dunque, perché gli uomini sono molto più inclini alla violenza rispetto alle donne? Secondo gli psicologi evoluzionisti è perché la violenza in genere ha dato risultati migliori per i nostri antenati maschi. In termini evoluzionistici i migliori combattenti hanno più figli rispetto ai loro rivali meno agguerriti. Questo perché l'occasione dell'accoppiamento è stata la ragione che ha condotto più spesso alla violenza i nostri antenati rivali di sesso maschile, con effetti che analizzeremo in dettaglio in un prossimo podcast. Di fatto, la maggiore statura, la maggiore forza e le maggiori dimensioni della parte superiore del corpo negli uomini sono un evidente segno rivelatore zoologico di una storia evoluzionistica di violenta competizione tra maschi. Altri segni sono gli effetti del testosterone sulla tendenza al predominio e alla violenza, l'emozione dell'ira completa del riflesso che fa scoprire i canini e stringere i pugni e il fatto che disturbi dei sistemi inibitori del cervello, per esempio dovuti all'alcol, a danni al lobo frontale o all'amigdala o ad altre disfunzioni genetiche, possono portare a crisi aggressive innescate da circuiti nel sistema limbico. Non solo, i ragazzini che giocano a fare la lotta lo fanno spontaneamente, a prescindere dagli incentivi o disincentivi dei genitori, ed è un'evidente esercitazione al combattimento, esattamente come vediamo fare i cuccioli di gatto o di cane, che da piccoli continuano ad azzuffarsi in un evidente, sebbene giocoso, addestramento al combattimento. Inoltre in quei frangenti i ragazzini si dividono in coalizioni che competono tra loro con un'aggressività che si manifesta ben prima che giochi e stereotipi culturali bellicosi possano influenzarli. Non a caso gli scienziati considerano la prima infanzia l'età più violenta. Da un recente studio su un considerevole numero di bambini, è infatti risultato che quasi la metà dei maschi di età appena superiore ai due anni e una percentuale di poco minore delle femmine erano usi a picchiarsi, mordersi e a prendersi a calci. Tutto questo significa che, essendo la violenza connaturata all'essere umano e in particolare al genere maschile, dobbiamo rassegnarci ad essa? Sì e no. Sì nel senso che non è pensabile di sradicarla qui e ora con un tratto di penna sotto qualche disposizione di legge o spedendo qualche drag queen o qualche femminista negli asili e nelle scuole elementari a fare corsi di affettività. L'unico potere che può davvero sradicarla è il processo evolutivo che ha i suoi tempi molto lunghi e che, casomai, e in questo senso non ci si deve rassegnare, può essere facilitato e velocizzato da un ambiente che, come giusto che sia, condannire prima la violenza in sé e per sé da qualunque sesso provenga, riconoscendone però la radice naturale presente in tutti, uomini e donne. In un ambiente del genere però, memi ingannevoli come quello femminista che abbiamo considerato dovrebbero essere respinti esattamente come si respingono gli spacciatori di droga o i trafficanti di gioielli falsi. Grazie a tutti!